Pepe, prova a sfondare i due sui di lui, il raddoppio di Biondini, la cross, palla che passa, Amori, di testa e poi la deviazione sotto porta di Iaquinta con la palla fuori. Parte Pepe nel mucchio, anticipato Filippe Mela, attenzione, Krasic, rete, Krasic, più del vantaggio. Qui gran palla di Biondini per la Lazzari che punta verso l'area, parte il traversare, Matri, il pari del Cagliari. Pepe, all'interno dell'area di Corri c'è Amori che prova a liberare il la sinistra, Amori, a Gazzi in due tempi. Si batte Perico, recupera il pallone però a Mauri. Pepe, insiste la Juve, andare al cross, Pepe, pallinare, attenzione, Krasic, rete, ancora Krasic. Attenzione a Iaquinta, posizione regolare, Iaquinta, in area di rigore, Iaquinta, a Gazzi. Non è finita, ancora Iaquinta sulla pallone, insiste la Juve, arriva Rimorchio, Krasic, l'ha visto Iaquinta, cerca l'1-2. E poi il pallone diretto da Mauri con Agazzi che tiene in corsa il Cagliari. Parte Cossule, adesso morbido, palla sottoporta, colpo di testo, Storari. Parte Bebe, primo palo, pallare salì a Mauri, la parte vuota, rete, terza gol della Juve, alla fine. L'ultimo tocco è stato di Bonucci. Adesso di Rinaudi in area, stacca Mauri, indirizza bene sul secondo palo, ma la palla termina di poco fuori. Bell'apertura di Matri per Nenè. Si accettra Nenè, movimento di acqua fresca, si propone Matri, il pallone per lui, Matri in area di rigore, Matri con l'esterno. Palla di poco fuori, grande azione del Cagliari. Palla sul secondo palo, pallone messo fuori, Krasic in anticipo, Krasic in percussione. Krasic, rete, ancora Krasic. Si stelle a Cagliari, prova a rendere meno pesante lo svantaggio. Il lacrosse, palla in aria, attenzione Nenè. Con l'esterno, Lazzari, grande palla in aria. Nenè. Anzi, Matri, Matri anticipa tutti. La doppietta di Matri. L'esterno, Lazzari, grande palla in aria. L'esterno, Lazzari. L'esterno, Lazzari.